Quarta pubblicazione per Cinzia della Ciana, insomma questo titolo anche originale, Solfeggi, partiamo da lì, come mai questa scelta? È stata un voler ritornare nuovamente alla musica e far sì che allo spartito della vita quotidiana si applicassero le regole del solfeggio per uscire dalla solita solfa. E quindi sono racconti, dei racconti ironici, che si concentrano su protagonisti, donne e uomini qualsiasi che sono inseriti nella nostra grigia quotidianità, dal supermercato al regalo riciclato, al parcheggio e che reiterano l'errore, quella circostanza che tutti sappiamo che già ha un esito negativo ma ineluttabilmente ci ricadiamo e tutti sono appesi all'imperativo, mai più ben sapendo che ritorneranno in quell'errore. E guardare, focalizzare queste circostanze con un sorriso, sapendo spartire il bianco e il nero e entrare e uscire a tempo giusto e quindi la battuta e la lettura ritmica che si acquisisce con il solfeggio mi è sembrato così. È un modo di legger leggeri, dove la leggerezza, se si vuole parafrasare Valerì, non è il volo di piuma ma è il volo dell'uccello, insomma, che ha le sue regole che in qualche modo ci aiutano ad orientarci. Ecco, c'è una prefazione anche di Andrea Scanzi. Sì, Andrea ha apprezzato questi miei racconti, io lo stimo tantissimo e ho avuto l'onore che lui si soffermasse a introdurre questi solfeggi. E allora la scrittura, per chi invece tutti i giorni affronta il mondo abbastanza inquadrato delle lezze e della giurisprudenza, è un modo per uscire anche in questo caso a suo modo dalla solita solfa o no? La scrittura per me è stata un'esigenza di tornare a suonare. Io sono tornata, dopo una formazione pianistica con il maestro Nera, a cui il libro è dedicato, appunto sono tornata a voler suonare, dopo anni di professione di avvocato, con le parole. E quindi la scrittura, sì, è un modo, le parole sono le mie note in questo caso, è un modo di suonare in modo diverso e quindi auguro a tutti di potersi cimentare anche con questo tipo di strumento.